Siamo a San Sebastiano al Vesuvio con Donatella Schisa che sta per presentare all'interno della rassegna diritti ed autori l'ultimo nato in famiglia per così dire a Napoli con Massimo Troisi, il napolitano di San Giorgio Acremano, Giulio Perlone, editore. Stavo prima dicendo proprio a Donatella che questo libro a me è piaciuto in modo particolare perché non è la solita, ma con solita non voglio dare una connotazione negativa, testimonianza sul personaggio, sull'attore, sul regista, ma è un viaggio in cui Donatella ci accompagna insieme a Massimo Troisi nei suoi luoghi, nella sua vita. Come è nato questo libro? Molto banalmente è nato da una richiesta, nel senso che io che mi occupo di narrativa di solito, che sia breve o lunga, tradizionale o meno, insomma racconti, romanzi eccetera, non avevo mai scritto un saggio, né avrei mai pensato di scriverne. Poi un po' più di un anno fa il mio editore mi chiese se mi volevo occupare di questo volume, quindi di scrivere di Massimo Troisi e far cadere l'uscita del libro in concomitanza con il trentennale della scomparsa dell'artista. Infatti il 4 giugno, proprio ieri, sono trent'anni che Massimo Troisi ci ha lasciato, che non ne fa comunque un instant book, cioè un libro legato alla ricorrenza uscito in quell'occasione e quindi un libro quasi usa e getta. Diciamo che questo libro si propone, almeno si augura, di rimanere nel tempo e di costituire una costante, diciamo così, nel racconto di quello che è stato Massimo Troisi. Io ho accettato all'inizio con enorme entusiasmo, come dico nella prefazione, perché ho molto amato questo artista, perché ho veramente l'ho amato e quando è scomparso ne ho sofferto come se si trattasse di una persona di famiglia o comunque di un amico molto caro, veramente sofferto, ma come me credo molti dei napoletani e il racconto è più o meno comune. Poi quando mi sono messa all'opera per scriverne mi sono trovata di fronte davvero a una montagna altissima da scalare, quasi al dramma della pagina bianca, perché mi sono resa conto che su Troisi era stato scritto tutto, detto tutto. Solo l'anno scorso, in occasione di quello che sarebbe stato il suo settantissimo compleanno, sono usciti tre documentari, l'ultimo dei quali quello di Mario Martone pregato, premiato con Davide Donatello da poco e quindi mi sono resa conto che in effetti si sarebbe trattato di un'impresa ardua, perché correvo il rischio di già detto, di già visto, di già sentito e poi inevitabilmente ho finito col raccontare e scrivere cose anche sapute, però era necessario per dare una continuità e un senso, insomma perché si tenesse insieme che il tutto fosse un discorso unitario. Quindi all'inizio sono stata molto in crisi e ho iniziato guardando tutto il materiale, riguardandolo più e più volte, pur conoscendolo quasi a memoria in gran parte, leggendo tutto quello che era stato scritto e mi sono approcciata a questo. Poi, subito dopo, piano piano l'idea è arrivata da sola, nel senso che ho pensato di, siccome questa collana per cui ho scritto il volume si chiama Passaggi di Dogana e si occupa allo scopo di raccontare determinati luoghi attraverso gli occhi dei protagonisti, quindi di persone famose, letterati, scrittori, ma anche cantautori, attori, registi, eccetera. Infatti ci sono dei volumi meravigliosi all'interno di questa collana e il compito di questo volume era raccontare la Napoli di Massimo Troisi, quindi non semplicemente Massimo Troisi, non sarebbe stata comunque un'immissima biografia, questo ce l'avevo chiaro dall'inizio, ma raccontare il suo legame con il luogo tenendo presente che poi Massimo Troisi non era napoletano ma era nato a San Giorgio a Cremato. Quindi c'è tutta una parte molto puntuale nel racconto anche storico di queste origini e dell'importanza che poi hanno avuto in tutta la sua opera, però dovevo trovare un modo per raccontare la sua Napoli in qualche modo e alla fine ho escogitato una passeggiata ideale. E sei partita da un luogo particolare che è lo Stadio Maradona. Dal luogo del cuore per eccellenza. Assolutamente, infatti tu all'inizio l'hai un po' anticipato, hai stipulato un patto con il lettore, hai chiesto al lettore di sospendersi per un po' di tempo, per le pagine del libro, da quella che può essere la realtà e dici, l'hai invitato a seguirti, a seguirti e a seguire Massimo. E' un po' di questo calcio o meglio, della passione di Massimo Troisi per il calcio che anche in questo Massimo Troisi era particolare come in tutte le sue passioni e interessi. Grandi passioni, grandi passioni, vissute con entusiasmo, con intensità, con gioia e anche con estrema serietà. Per lui il calcio non era semplicemente il gioco del calcio, era una cosa seria, a parte la più seria della sua vita. Lui lo diceva chiaramente, se non avesse avuto i problemi di cuore, che tutti noi sappiamo, avrebbe voluto fare giocatore professionista. Un po' come era successo poi a suo padre, che negli anni 30 era stato un calciatore professionista nel San Giorgio a Cremano ed era anche ritenuto molto bravo e sua madre anche era un'appassionata di calcio, tanto che due si erano conosciuti sugli spalti dello stadio cittadino, dove lei appena 16 anni andava a vedere, ad assistere alle partite della squadra cittadina. Quindi evidentemente l'aveva proprio nel DNA questa passione per il calcio e l'aveva sviluppata alla grande. Non appena aveva un attimo di tempo, ma anche quando non ce l'aveva se lo ritagliava. Infatti molto spesso non andava a scuola, tra l'altro ha impiegato dueci anni per prendere il diploma di geometra e non perché non avesse gli strumenti per poterlo fare in tempo, perché proprio il sistema a scuola con quelle modalità lo allontanava, lo respingeva, lui lo trovava respingente, per cui molto spesso, piuttosto che andare a scuola, la marinava e rimaneva con gli amici a giocare interminabili partite di calcio, ma con quella serietà e quell'impegno che lui sarebbe rimasto costante per tutta la vita, almeno finché gli è stato dato vivere, quella che mettono i bambini nel gioco, che ritengono che il gioco sia la cosa più seria del mondo. Massimo Troisi era così, giocava con estrema serietà, si arrabbiava, erano gli unici casi in cui si arrabbiava, quelli per il calcio. Poi anche quando è giocato nella Nazionale Artisti, quando era diventato famoso, si arrogava a lui il diritto di fare la formazione, pretendeva che non entrasse nessun altro, c'era un compito suo perché lui ne capiva e basta, voleva sempre la palla, insomma era anche bello in questo senso. Donatella, davvero sei entrata in tanti, proprio nella vita, nel cuore della vita di Massimo Troisi, quanto è importante secondo te cogliere o conoscere questi aspetti per farsi un'idea veramente crescita forse di quello che è un personaggio. Perché noi siamo abituati, soprattutto con Massimo Troisi, con personaggi come, con le sue caratteristiche, un po' a generalizzare o affermarci a quello che ci viene detto, quello che i giornali riportano. Invece quando poi si entra in contatto con tante persone, perché tu hai parlato con tantissime persone, sia amici, professionisti che collaboravano con lui, che lavoravano con lui e familiari. Questo entrare così in contatto, quanto poi ha completamente modificato probabilmente la stesura o l'idea che tu stessa ti sei fatta di Massimo Troisi? In realtà, siccome io sono una persona, non dovrei dirlo, però è così, quando faccio le cose anche io le faccio molto seriamente. E quindi io in realtà ho un'idea di come lui fosse, ce l'avevo già. E tutte queste testimonianze non hanno fatto altro che confermarlo, che in realtà dietro quella sua apparente leggerezza, dietro quella vitalità estrema, perché poi pur avendo quel grande problema, lui ha vissuto sempre con uno slancio, un ardore, proprio una sete di vita. Però dietro tutto questo c'era l'ombra lunga della malattia. E veramente quell'ombra metafisica quasi, che l'ha accompagnato per sempre. Quindi era importante cogliere questo, soprattutto agli inizi, ma anche in seguito, con le opere successive, che poi non hanno fatto ridere tanto quanto, per esempio, gli scheccio teatrali della Comorfia o il primo film, Ricomincio da tre. Alcuni si sono detti anche delusi, quasi, no, perché diceva in fondo in questi film si ride meno. Perché lui era così, esordito, facendo molto ridere, eccetera. Però c'erano sempre dei messaggi, ma non, cioè, voglio dire, a studiarlo bene, a riguardarlo, a fare attenzione, effettivamente i suoi film e tutte le sue opere erano decisamente molto di quello che appariva a prima vista, della risata che sorgeva inevitabile, spontanea, sgorgava, proprio fragorosa, perché era irresistibile, la sua comicità era irresistibile. Però dietro c'era un pensiero, c'era un pensiero forte che lo ha caratterizzato in tutto e il discorso sarebbe molto lungo. Tant'è che io poi analizzo tanti aspetti, anche la politica, la religione, il rapporto con... La musica, la poesia, il cibo, le donne. Le donne. Non voglio farti la solita domanda, lo dico da sola, no? Sì, a Massimo Toisi piacevano le donne, ha avuto compagne molto belle, molto intelligenti, molto preparate, ha avuto tante donne. Ma volevo chiederti invece, nella sua trasposizione cinematografica, l'idea di donna che passa, anche quella ha subito delle trasformazioni. Nell'ario film, sicuramente c'è un'idea di una donna che non sta a casa a fare la casalinga, pur avendo avuto una mamma che era casalinga, morta presto, però un'idea di una donna invece che aveva voglia di affermarsi, che lavorava, penso a Ricomincio da tre, no? Quindi vorrei che tu ci introducessi meglio questo aspetto. Allora, innanzitutto quello che tu hai detto è vero, la mamma di Massimo era casalinga anche se poi lavorava in casa, fuciva, cravate, di seta in casa, era un lavoro appottimo e anche su questo c'è tutta una serie di sketch di Massimo sul lavoro, bellissimi, perché poi era la vita reale a fornirgli le occasioni per portare poi in scena le tue riflessioni. Però la mamma di Massimo era una donna molto moderna, nonostante il suo rapporto con la religione che era invece estremamente tradizionale, però era una donna di visione, sapeva dell'importanza dello studio, pur con i loro pochi mezzi raccoglieva in maniera che non sto qui a dirvi, magari se avete voglia lo leggerete nel libro. Non diciamo tutto, infatti stiamo andando per grandi, macro argomenti. Però appunto raccoglieva dei soldi per portarli al santuario di San Giuseppe di cui lei era molto devota e versarli a favore dei ragazzi che non avevano la possibilità di studiare, perché era convinta che da lì nascesse poi la possibilità di riscatto, di crescita e di affermazione. Quindi già dalla mamma partiva un'idea di donna diversa, per quanto relegata nei ruoli che all'epoca non potevano essere altri, però l'idea della donna è stata assolutamente centrale, tutta l'opera di Trudy, innanzitutto una donna per la prima volta che ha un rapporto alla pari con l'uomo e oltre ad averlo alla pari, lui addirittura ha detto che abbandonato, cioè lui non lo era e quindi non avrebbe mai potuto portare in scena, oltre a non averlo voluto tra l'altro, però non avrebbe mai portato in scena il maschio di stampo tradizionale, maschilista, geloso, quello che porta i pantaloni, che alza la voce, decisionista, eccetera. No, lui innanzitutto in tutti i suoi film si vede chiaramente che con la donna ha un rapporto alla pari e addirittura dice in qualche intervista, lui ha detto che era addirittura lui a volte ad appoggiarsi alla donna, ad avere bisogno in uno scambio quindi assolutamente alla pari e per la prima volta il maschio mostra le sue fragilità anche, le sue insicurezze, la sua incompletezza, quindi il ruolo della donna è decisamente fondamentale in tutta l'opera di Cristo, per quanto cambino le protagoniste femminili, però sono sempre donne decise, determinate, che poi fondamentalmente hanno un'importanza fondamentale, strategica nella vita di tutti i protagonisti, in tutte le storie. Assolutamente, anche rispetto a quello che dicevi prima, quando facevi la considerazione in base alla quale molti hanno sostenuto che i film che si sono poi succeduti nella sua carriera sono un po' cambiati, facevano meno ridere secondo alcuni, però si evince molto chiaramente nella lettura del tuo libro, la trasformazione che poi non era una trasformazione, era un'aderenza sempre più a quello che Massimo Troisi era, e questo si avverte chiaramente leggendo, scorrendo questo viaggio in cui tu e Massimo portiamo il lettore in giro per la sua vita. Una cosa molto particolare era anche, lui è stato anche regista, e anche qui qualcuno ha avuto da ridire, perché la sua modalità di ripresa con lo strumento era la presa diretta, per cui anche questo è molto interessante, perché mentre solitamente c'è la macchina che segue la storia e i personaggi, invece lui predileggeva l'attenzione sull'attore, su chi stava recitando, che poi era il protagonista che doveva muoversi, e questo è anche molto interessante, e sicuramente ha rotto degli schemi anche da questo punto di vista. Estremamente innovativo, era stanco della commedia all'italiana che era uno stereotipo ormai logoro, per quanto abbiamo avuto grandissimi protagonisti, da Manfredi, a Tognazzi, abbiamo avuto veramente attori straordinari, però era proprio il cliché della commedia all'italiana che ormai mostrava i segni del tempo, e Massimo aveva necessità di raccontare altro, sia pur ricorrendo alla commedia, però la cambia, la rovescia completamente, e soprattutto innanzitutto si sottrae a quel cinema d'azione, non aveva bisogno di effetti speciali, per lui quello che contava erano i dialoghi, erano i rapporti fra le persone, erano le storie che i protagonisti, i coprotagonisti, eccetera, avevano da raccontare, quindi appunto l'attenzione puntava sulla persona, anche la commedia, che è un genere ridanciano, leggero, superficiale, diciamo la verità che tocca temi così, invece nel cinema di Massimo Troisi è molto umanistico, in questo senso, nel senso che appunto sull'uomo, sull'essere umano, sulle sue problematiche, sul suo vissuto, perché per lui, a parte il ruolo da regista, quindi quello in cui lui era dietro la macchina da presa, ma per lui era fondamentale la scrittura, tutto il lavoro che c'era prima, lui diceva che poi in fondo a girare ci voleva poco, infatti i suoi film come riprese durano poco tempo, perché tutto il lavoro, la maggior parte di lui l'ha fatto prima, è quando ha pensato, dice io sono molto più regista quando sto a casa da solo, in mutande, quando vado in bagno, quando sto con la mia donna, quando sto così, perché in quel momento penso, c'è la costruzione di tutto quello, c'è la costruzione, l'elaborazione e poi la messa per il scritto di quello che sarà, per lui la scrittura era fondamentale, di questo non si è parlato abbastanza, ma la scrittura dei suoi testi, da quelli teatrali a quelli cinematografici, era la cosa che portava via più tempo e alla quale lui proprio attribuiva la più grande importanza, poi girare diceva non ci vuole granché, anche perché lui riusciva a stabilire con gli attori sul set un rapporto magnifico, metteva tutti al loro agio e era in grado di suscitare una funzione magliettica, tirava fuori il meglio da ciascuno, questo l'hanno di più, senza il giudizio. La parola, la scrittura, le poesie, il tuo libro si apre con una poesia di Pablo Neruda, il Postino, ma anche un Massimo Troisi, poeta, ha scritto ben 12 poesie, aggiungiamo qualcosa chiedo a te, perché tu hai fatto uno studio davvero profondo, anche su questo aspetto, il Troisi poeta, che poi poeta insomma utilizzando tutte le virgolette del caso, diceva io stesso. Tutte le virgolette, ma insomma, secondo me ricorrere alle categorie e volerle fissare con paletti in maniera a prioristica e rigida, secondo me lascia il tempo che trova come operazione, nel senso che la poesia è una disposizione dell'animo e uno sguardo sul mondo e Massimo Troisi ce l'aveva assolutamente. Ora, definirlo poeta o meno non credo abbia molta importanza, sicuramente lui avvertiva la necessità di esprimersi in versi, era una forma che gli era più congeniale, decisamente perché era più sintetica, la poesiava per immagini, per epifanie e lui che non amava parlare a lungo, era sempre estremamente sintetico, i suoi discorsi erano spesso appunto smuzzicati, interrotti, sono stati lunghi studi sulla lingua di Troisi, per cui lui che aveva difficoltà anche ad esprimere le sensazioni, le emozioni, i sentimenti, perché comunque nasce un ragazzo, come un ragazzo timido, insicuro, quindi nella poesia invece trova una forma congeniale di espressione, perché la poesia è rapida appunto, butta giù, procede per immagini, per assonanze e in fondo adotta quelli che sono gli stilemi della musica e la musica era un'altra arte che lui amava tanto e quindi secondo me Massimo Troisi è stato un poeta senza saperlo, non si sarebbe definito tale, sicuramente si sarebbe schermito come faceva in tutte le cose dell'altra vita, ma credo che lo sia stato, basta semplicemente pensare alle cose che ha scritto Bertino Daniele e che poi sono state messe in musica, se non sono poesie quelle, se non sono l'ambio proprio di bellezza. Mi hai fatto venire in mente quello che non era uno sketch, ma poi è divenuto uno sketch, la famosa intervista che in Minà avrebbe dovuto insomma tenere, invece lì è diventato uno sketch, è stato un pezzo della storia della televisione tra Pino Daniele e Massimo Troisi. Ha perso completamente il controllo sin da subito, non faceva ridere con le lacrime, chiedeva venia, chiedeva perdono, sapeva che ormai non era più così, ma lui prese alla grande vabbè, come sempre. I cliché, Troisi li smonta, il cliché del napoletano, il napoletano che si sposta per lavoro, invece lui rappresenta il napoletano per emigrare, ma un napoletano che ama viaggiare, si sposta perché vuole spostarsi, appunto come dicevi tu. Anche questo, questo come tante altre cose, lo rendono particolare, unico e soprattutto sai che cosa su cosa riflettevo, il tuo libro mi ha aiutato a riflettere anche su questo aspetto, che nessuno, solitamente quando ci sono dei personaggi così importanti e che rispondono a tanto successo, trovano sempre dei detrattori. Massimo Troisi, devo dire, non ne ha trovati tantissimi, cioè mette d'accordo un po' tutti. Giusto all'inizio, giusto all'inizio c'è stato qualcuno sulla lingua che ha detto ma non lo si capisce se ne tornasse al sud e lo stesso Gianluigi Roddi, il grande critico cinematografico il più importante di quei tempi, alla prima proiezione di ricomincio da premio, ebbe un giudizio negativo su di lui e poi gli ha chiesto scusa. A Tornina quando fu premiato col Davide Donatello gli ha chiesto scusa e vabbè ha vinto tutti i premi con cui gli ha chiesto scusa e appunto disse di essersi grandemente sbagliato. In realtà, però sconfiggio, questo ragazzo che arrivava dal sud, quando il sud era agli ultimi posti, non come in questo momento in cui Napoli e i napoletani sono anni diversi, si veniva dal colera, dal terremoto, eravamo visti malissimo, eravamo veramente gli ultimi, gli ultimi, un gradino sotto la civiltà, quando addirittura vinciamo lo scudetto ci viene riproverato di essere i campioni del nord Africa e lui risponde, meglio essere i campioni del nord Africa che fare strisciuti da sud Africa, quindi una prontezza anche in questo e lì stava ad un brano, c'era l'apartheid e quindi anche lì ne fa una questione di razzismo al contrario, sempre estremamente acuto, con garbo, senza mai trascendere, senza mai l'offendere, senza mai entrare a gamba tesa, sull'interlocutore barra aggressore, lui riesce sempre ad avere la risposta a tissa, è un uomo frontale, ha il coraggio delle sue idee, sa che può perdere tutto, l'alea che corre è enorme, enorme, i produttori del primo film, ricomincio da tre, temevano, flop, temevano che a causa della lingua non avrebbe superato i confini delle ragioni. E lui, quindi lo pregarono di farsi dubbare, recitare in italiano, e disse no, ma lo faccio così o non lo faccio, perché sarebbe stato un venir meno alle sue idee, un tradire la sua terra, le sue radici e anche le ragioni politiche di quello che è andato a fare. Quello che tu dicevi precedentemente, questo studio, anche questa continua riflessione, perché da un certo punto di vista si colloca, tra Edoardo e Totò, Totò la mimica, Edoardo ha a modo suo un linguaggio, le risposte che non sono mai banali, non sono mai classiche, e Troisi in un certo ugual modo è come se con quella macchina fissa sull'immagine, sull'uomo, sul personaggio che interpreta, è come se avesse messo insieme questi due aspetti, però creando qualcosa di completamente diverso, anche perché è una cosa che sempre si vince dal tuo libro, sono anni molto particolari, gli anni 70, anni 80, di grandi trasformazioni, e lui interpreta perfettamente, cioè inizia in un modo, si evolve, anche la sua fede, ti faccio l'ultimissima, la penultima domanda, dai, perché veramente su questo libro che consiglio di leggere vivamente, perché dà tanti spunti su un personaggio, ma nuovi. La fede, dalla famiglia tradizionale, l'abbiamo detto, mamma religiosa, ma lui che inizia in parrocchia, si discosta dalla parrocchia, ma non dalla fede, inizia lì a fare le prime rappresentazioni, e poi? E poi, allora, il rapporto con la fede era sicuramente problematico, non l'ha mai disconosciuta nella sua verità, quindi quella che erano, la fede popolare, quella sincera, quella dei devoti, lui non l'ha mai disconosciuta, non avrebbe mai potuto, la mamma e la nonna erano estremamente religiose, quindi lui mantiene una posizione di rispetto, tutt'al più si fa agnostico, ma rispetto a quelli che erano i precipitati negativi della religione, cioè quel manipolare, oggi il rapporto con la religione si è quasi completamente disperso, le chiese sono vuote, c'è una crisi di vocazione, nessuno più teme la condanna dall'alto per il cattivo operato della sua vita, eccetera, quelli erano anni diversi, sul condizionamento della fede era ancora molto forte, e lui però se ne discossa, se ne discossa per una serie di motivi, innanzitutto perché ha un pensiero critico, e quindi capisce che le cose non sono nel modo in cui vengono loro raccontati dalla chiesa e le sacerdote, e poi per un episodio che io racconto nel libro, perché portano scena a uno spettacolo che è di grande nottura, e quindi vengono cacciati alla parrocchia perché affrontano temi come l'aborto, la droga, eccetera, e poi... Ultimissima domanda, se no ci vinciano... Sì, no, penso che ci stiamo chiamando... Colpa mia, colpa mia, l'ultimissima cosa hai scoperto, tu hai già avuto una consapevolezza del personaggio, perché sei molto attenta, cosa hai scoperto in questo lavoro di ricerca? Se hai scoperto qualcosa che non avevi contemplato? Se c'è qualcosa, se non c'è nulla... Non te lo so dire, lo sai perché? Perché... Allora, per nove mesi, veramente nove mesi, il tempo di una gestazione è stato quasi un parto, veramente, io ho vissuto proprio con Massimo Troisi, con quello che è stato il suo vissuto, le storie che mi hanno raccontato, quello che ho letto, quello che ho visto, quello che ho guardato, e quindi alla fine è divenuta talmente parte di me tutto, tutto, che oggi non so più dirti cosa è accaduto dopo, oggi è un tuttunco. Adesso è diventato anche amico tuo, in un modo diverso, ma... Lo era anche prima, lui non lo sapeva, adesso gli ho dichiarato il mio amore, si è riscritto. Va bene, grazie Donatella, sei sempre gentilissima. Allora, adesso al Santibiziano, Donatella Schisa a Napoli con Massimo Troisi. Grazie Claudio.